Musica Sulla nomina del commissario d'acta per la sanità il ritardo è incredibile ed ingiustificato e suscita nell'intera opinione pubblica calabrese allarme e preoccupazione. E' quanto afferma in una dichiarazione Flora Sculco, capogruppo in Consiglio regionale di Calabria in rete. Due milioni di cittadini calabresi, aggiungerà Sculco, non possono più attendere i tempi della politica e nemmeno quelli delle beghe politiche romane per ottenere normalità nella gestione del sistema sanitario regionale. Dopo le decisioni assunte martedì dalla conferenza dei capigruppo, adesso è altrettanto urgente che sia il Consiglio regionale ad occuparsi della questione, formalizzando con l'autorevolezza che gli deriva dall'essere la più alta espressione della democrazia calabrese, la richiesta al Governo di procedere con urgenza alla nomina del commissario. Musica Musica